25 aprile, festa nazionale della liberazione. La data fu scelta dal Comitato di Liberazione nazionale perché quel giorno da Milano partì l'appello per l'insurrezione armata della città, sede del comando partigiano. 25 aprile è sinonimo di democrazia, libertà, indipendenza nazionale. Il campo dei valori è largo, comprende virtualmente tutti gli italiani, ma coloro che sostengono direttamente o indirettamente fascismo, razzismo, militarismo ne sono esclusi. È anche questo il motivo per cui i movimenti e forze, nate a distanza di decenni da allora, possono aderire all'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che è ancora in prima linea nella custodia e l'attuazione dei valori della Costituzione e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza. Ha scritto Italo Calvino. Dietro il milite delle brigate nere più onesto, più idealista, c'erano comunque rastrellamenti, operazioni di sterminio, camere di tortura, deportazioni. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più violento, c'era comunque la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, perché di giuste in senso assoluto non ve ne sono. Grazie a tutti.